gentili telespettatori buona giornata salvini va a modena per il suo tour elettorale dopo modena cioè dopo bologna passa a modena per una cena con 400 militanti le sardine lo seguono le sardine quel non possiamo dirlo movimento è quella cosa che si è formata in internet con internet e volantinaggio dove si riuniscono delle persone in delle piazze però senza un senza un politico che parla senza delle opinioni o delle o una manifestazione o non so dove parla qualcuno è solo una riunione statica come una fotografia lo chiamano flash mob si riuniscono stanno lì per un po si guardano negli occhi magari dicono qualcosa qualche corretto qualche canzoncina voi immaginate quale sia la canzoncina poi ve la dico intanto pensateci e poi vanno a casa giornali compiacenti parlano la spina nel fianco di salvini il flash negli occhi di salvini ma attenzione a salvini non gliene frega bene amato bip di queste di questi ragazzi universitari probabilmente molto spesso non residenti neanche nella regione quindi non voteranno che si ritrovano lì o che lo seguono anzi salvini ha postato anche una loro foto della piazza dicendo benvenga che queste persone siano contro salvini ma pacificamente onestamente non come i centri sociali che arrivano a tirare bottiglie contro bottiglie fumogeni contro polizia carabinieri cercando lo scontro la rissa dice benvengano queste queste manifestazioni quindi giornali compiacenti e il pd incensano questi ragazzi che vanno in bicicletta ecologisti tutta una serie di di elogi un po mielosi cercando di fare un ritratto poetico di questi ragazzi che poi in un altro video vi spiegherò di poetico non hanno niente dovrebbe esserci dietro romano prodi dietro queste manifestazioni e poi adesso vi racconto un'altra cosa che vi lascerà a bocca aperta e direte di nuovo ancora no quindi volevano dipingere queste non manifestazioni queste riunioni come un qualcosa di diverso quasi buono no così così buonista ecco buonista comincia ad avere già una deriva diversa perché buonista ha una connotazione diversa da quella che pensate non è da buono buonista è un'altra cosa poi in un video ne parleremo di esattamente di cosa vuol dire e cosa significa una persona o un gruppo di persone buoniste e tutt'altra cosa dal buono c'è la radice buono ma di buono c'è realmente poco perché c'è tanta ipocrisia comunque si riuniscono in piazza grande 7.000 persone con l'ombrello perché sta sta piovendo lì vicino c'è salvini con i suoi 400 militanti che sta mangiando cenando e si levano queste frasi scandite modena non si legano modena non si lega una parte di modena non si lega perché ricordiamo che la lega in emilia romagna è il primo partito almeno non rispetto ai sondaggi che fanno ridere perché ci sono dei sondaggi che danno il centrodestra in vantaggio dell'8 per cento e dei sondaggi che danno il centrosinistra in vantaggio dell'operto 8 per cento quindi lasciamo perdere i sondaggi perché abbiamo capito che lì il cliente ha sempre ragione chi li commissiona gli fanno un 8 per cento di vantaggio no più paga magari fanno anche un 10 quindi lasciando perdere i sondaggi prendendo l'ultima elezione quella di di maggio delle europee la lega era il primo partito col 34,5 per cento 33,5 non mi ricordo se 33,5 34,5 secondo partito era il pd intorno al 27 28 per cento prendiamo questi che sono dati reali perché i sondaggi fanno ridere i polli quindi quando parlano modena non si lega diciamo il 27 per cento di modena se ancora quelli sono i voti del pd forse non si spiegano per il resto è tutt'altra storia no e poi cantano che vi verrà il latte alle ginocchia vi verrà vi verrà da sedervi dire ancora vi cadranno le orecchie cantano bella ciao voi direte non è possibile sì cantano bella ciao ecco l'ho detto non lo ridò non lo dirò mai più comunque in un altro video vi dicevo vi parlerò che probabilmente dietro questa manifestazione c'è romano prodi probabilmente romano prodi ha capito l'incapacità del centro sinistra di fare una manifestazione perché se mandiamo avanti i politici quelli che abbiamo a roma se ci mandiamo zingaretti se ci mandiamo di maio a fare le manifestazioni non so se vanno 7.000 persone magari vanno delle persone un po leggermente curiosamente arrabbiate no quindi dice ma visto che i nostri rappresentanti non sono molto ben visti anche zingaretti l'altro giorno diceva ma ma noi alle regionali che caspita gli andiamo a raccontare non abbiamo fatto niente da poter ricevere un applauso non abbiamo fatto niente da poter andare orgogliosi per andare a fare comizi a dire abbiamo fatto la mia la manovra sei miliardi di tasse non so abbiamo rovinato l'ilva adesso la pagheranno tutti l'ilva anche se trovano un accordo voi sapete che lo stato dovrà pagare cassa integrazione sconti sugli affitti quindi che cosa gli vanno a raccontare i successi dell'ilva i successi della manovra delle tasse o la bella alleanza pd 5 stelle tra nemici che cosa gli vanno a raccontare della casa della 30 che non molla attaccata lì alla casa e mia e mia me la merito io l'ho vista prima io che nessuno si avvicini a questa casa no che cosa vanno a raccontare sinceramente cosa vanno a raccontare la solita storiella attenzione salvini è l'uomo più pericoloso del mondo attenzione quando passano chiudetevi nelle cantine nei bunker capite che la sinistra una certa difficoltà ad andare in piazza a raccontare che cosa no la storiella fascismo contro comunismo programmi non ne hanno che programmi vanno a raccontare quindi sembrerebbe che ci sia dietro romano prodi che abbia mandato uno dei ragazzi lavora per lui per un giornale se non credo poi ve lo racconto in un altro video e poi ciliegina sulla torta adesso ve la racconto siete pronti una di questi sono quattro persone che hanno organizzato questa manifestazione delle sardine no e i giornali li hanno descritti come questi bravi ragazzi no quasi dei sacerdoti no che bravi studenti vanno in giro in bicicletta non inquinano sorridono e poi i giornali vanno come sempre sia le aziende che i giornali vanno tutti a vedere i profili di facebook di queste persone per rivedere realmente sono queste persone idilliche che racconta repubblica che repubblica li ha presentati come i ragazzi della via pal no e invece si scopre che una di queste la ragazza del gruppo mette un bel un bel post augurando la morte a matteo salvini impiccato a testa in giù se avete sentito bene ci risiamo ci risiamo e qui vi faccio presente una cosa in questa riunione c'è silenzio a parte bella ciao avevo detto di non dirlo più ma l'ho dovuto dire da parte quella canzone che cantano e modena non si lega dall'altra parte cantavano bologna non si lega non ci sono altre frasi non ci sono altre parole tutto qua questo è tutto il loro mondo modena non si lega e quella canzone e mettere su facebook salvini augurargli la morte impiccato a testa in giù questo vi fa capire che questa sinistra non ha parole non sa come l'unico modo per esprimere la loro rabbia è augurare la morte a matteo salvini questo è qualcosa di intollerante al massimo livello di intransigente intollerante noi siamo e voi non siete un bip come diceva un attore famoso in un film il marchese del crillo io sono io e voi non siete noi siamo quelli della parte giusta voi che non siete della parte giusta siete degli schifosi fascisti xenofobi intolleranti e anche nostalgici imperialisti quindi a voi è giusto augurarvi la morte perché voi siete il male voi siete noi siamo il comunismo il bene che ha liberato assieme agli stati uniti la germania nazista arrivati al führerbunker e voi siete i cattivi noi siamo il bene contro il male i buoni contro i cattivi quindi si è perpetrato dalla fine della seconda guerra mondiale questo eco la sinistra ci sono i buoni e di là ci sono i cattivi di qua ci sono i comunisti la parte giusta e di là ci sono i fascisti i cattivi quindi qualunque cosa non sia di sinistra è fascista qualunque chiunque berlusconi era il duce non vi ricordate dal 94 in poi era berlusconi il duce poi è arrivato salvini il duce adesso con la meloni al 10% come la chiamiamo la ducessa come dobbiamo chiamarla no così quella parola è venuta un po' è venuta un po' male non era mia intenzione offendere assolutamente giorgia meloni però la ducia come la dobbiamo chiamarla adesso che al 10% anche saviana ha detto ma attenzione l'odio contro la segre è dovuto a salvini alla meloni cioè c'è anche la new entry la meloni visto che al 10% adesso è anche lei fa parte del gran consiglio del fascismo no? c'è il duce salvini ancora non è pelato come berlusconi ma già potete immaginarlo pelato con il gran consiglio con seduto Toti la meloni no? capite che capite che siamo arrivati allo stesso punto no? questi bravi ragazzi che scriveva Repubblica i giornali vanno a vedere e c'è quella ragazza che è nel gruppo che augura la morte a Matteo Salvini impiccato e qui siamo scaduti siamo proprio sul fondo persone studenti a volte universitari a volte ma non sono tutti studenti universitari non dobbiamo dar contro per forza gli studenti universitari pensando che tutti gli studenti universitari sono di sinistra non è assolutamente vero non è assolutamente vero però anche qua l'impossibilità di esprimersi no? riunione dove cantano la stessa canzoncina qualcuno Modena non si lega Bologna non si lega peraltro odio represso rancore non possono comunicare non possono parlare perché non hanno nulla da dire se non Salvini muori Salvini a testa in giù impiccato quindi come ho sempre detto chi è in Italia che odia chi è in Italia che semina odio chi sono in Italia le persone rabbiose con la bava alla bocca che non accettano che ci siano persone che la pensino diversamente e si nascondono dietro quello scudo dicendo non è che io non accetto la persona che la pensa diversamente da me è che loro sono fascisti ed è giusto augurargli la morte avete capito il quadretto impressionante è un quadretto che fa paura che incute davvero paura e non parliamo solo di ragazzini di vent'anni che non hanno niente da dire anche i giornalisti non hanno niente da dire e attaccano con menzogne Matteo Salvini al centro-destra non sono solo i ragazzini sono anche i giornalisti sono anche i politici la classe intellettuale menzogne come Gualtieri il conto del papete non esiste la Lamorgese con i numeri a favore suo che erano i numeri di Salvini capite che c'è tutto un sistema come l'altra la De Micheli quella la vicepresidente del partito democratico che è tutto colpa di Salvini tutte argomentando con delle balle pure e semplici balle che io in tutti i video le ho non smontate ho fatto una fotografia di quella che è la realtà dicendo queste sono le cose queste sono le cose che dicono gli altri però la realtà è questa ma non la realtà che voglio vedere io la realtà dei fatti la De Micheli cosa diceva abbiamo rischiato di pagare le tasse del papete le tasse del papete sì quei 23 miliardi di IVA di Salvini di Salvini ma se li ha messi Gentiloni PD quello che adesso è in Europa governo Gentiloni il meno amato dagli italiani non è la scavolini meno amato dagli italiani governo Gentiloni ha programmato l'IVA per gennaio 2020 e la De Micheli sapendo di dire una balla abbiamo evitato le tasse del papete di Salvini l'IVA l'aumento che cosa? il problema è che c'è un gruppo una parte di italiani che crede a questi personaggi che ci crede e poi abbiamo i ragazzini di 20 anni rabbiosi che augurano la morte a Salvini impiccato che dire non ci sarebbe niente da dire però abbiamo già parlato 14 minuti e mezzo credo che voi che avete seguito questo mio video fino in fondo abbiate capito e sappiate perfettamente senza aver capito lo sapevate già di quello che stiamo parlando grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video arrivederci